Chi si sarebbe immaginato di vivere una situazione simile? Io no di certo. Per chi non mi conosce io sono Alex Baldaccini, fisioterapista e atleta della Nazionale di Corse in Montagna ed oggi cercherò di darvi qualche consiglio e spunto interessante per continuare ad allenarvi anche a casa in vista della ripresa. Purtroppo la ripresa della vita normale e ancor più dello sport sembrano ancora lontane. In queste situazioni diventa davvero difficile avere la motivazione e la concentrazione necessarie per svolgere comunque un allenamento di mantenimento. Tuttavia da atleta semiprofessionista vedo quasi come un dovere il continuare ad allenarmi e farmi trovare pronto per quando ci sarà la ripresa. Quindi ho deciso di condividere con voi qualche spunto e qualche consiglio interessante su quello che sto cercando di fare per farmi appunto trovare pronto e soprattutto per cercare di non infortunarmi quando sarà il momento di ripartire. Per fare questo e darmi uno schema ho suddiviso le cose da fare in quattro grandi categorie che sono le seguenti. Numero 1 mantenere alta la motivazione. Numero 2 mantenere alti i parametri fisiologici come VO2max e velocità di soglia. Insomma per capirci tenere il motore ad alti regimi. Numero 3 sfruttare il periodo per aumentare o inserire il rinforzo muscolare nel proprio programma d'allenamento. Numero 4 mantenere una buona base di volume d'allenamento. Parleremo di ognuna di queste categorie in un video per volta per cercare di non appesantire la discussione e per approfondire al meglio ogni argomento. Quindi per non perderti le prossime puntate segui il canale clicca sulla campanella. Oggi ci concentreremo sulla motivazione. Infatti sono convinto che senza quella non potremo andare da nessuna parte e non riusciremo ad impostare nessun programma di allenamento. Come dicevo prima non è facile nemmeno per me mantenerla alta vista l'assenza totale di obiettivi a breve e medio termine. Ma sono convinto che senza la giusta motivazione le altre tre categorie che abbiamo visto prima non abbiano ragione di esistere. Iniziamo subito con uno stratagemma molto utile per tenere alta la motivazione anche in questo periodo. La cosa che ti consiglio è quella di porsi dei piccoli obiettivi a breve termine ad esempio di settimana in settimana per poter convincere la nostra mente a stare focalizzata e concentrata e a lavorare ogni giorno su qualcosa di concreto e tangibile. Questa cosa si può fare davvero con qualsiasi attività ad esempio se non hai mai saltato con la corda poniti come obiettivo entro una settimana di arrivare a 100 salti consecutivi dico dei numeri a caso oppure se non hai mai fatto plank poniti come obiettivo in sette giorni di arrivare a fare un minuto di plank. Vedi come questa strategia sia davvero applicabile ad ogni esercizio e ad ogni attività e se proverai vedrai quanto funziona. Chiaramente se il tuo obiettivo è quello di tornare a gareggiare o iniziare a correre non potrai porti degli esercizi a caso come obiettivi per questo ti invito a seguire questo e i prossimi video dove ti darò degli spunti mirati rivolti al trail running. Un'altra cosa che ti deve dare una grande motivazione a fare attività è che ormai ci sono tantissimi studi che affermano che l'attività fisica migliora in modo considerevole la salute sotto tantissimi aspetti e va addirittura a potenziare l'attività del sistema immunitario. Quindi cerca di sfruttare questo periodo meno carico di impegni rispetto al solito per acquisire una nuova e buona abitudine da portare poi con te anche una volta che si riprenderanno le attività normali. Oggi mi serviva farti capire quanto sia importante la motivazione ed essere davvero motivati a fare qualcosa altrimenti non si può andare da nessuna parte. Detto questo nel prossimo video ti parlerò di come tenere una buona condizione fisica anche senza correre o comunque correndo poco. Se hai domande ti invito a farmele qui sotto. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata.